In difesa dell'ospedale Busacca di Scicli, no alla chiusura, ma soprattutto in difesa della comunità cittadina per risolvere i numerosi problemi che continuano a venire fuori e che gravano su ogni nucleo familiare. Questo è il leitmotiv dell'assemblea aperta promossa ieri pomeriggio a Palazzo Busacca dall'Udc cittadino e dall'onorevole Orazio Ragusa. Ad aprire i lavori il segretario cittadino dell'Udc Pierluigi Aquilino. Numerosi i cittadini e i rappresentanti politici presenti, assieme ad esponenti di associazioni, di categorie e culturali che hanno voluto dire la loro sul delicato argomento. Noi siamo qui a tutela dei piccoli ospedali ma della sanità ragusana perché piccoli ospedali saranno messi in rete con i grandi ospedali che serviranno di sostegno. Nel nostro caso gli ospedali riuniti di Modica e Scicli, nel caso di Vittoria e Comiso anche esso, per i riuniti che si aiutino a vicenda nel fornire ai cittadini la migliore sanità che si possa fare per questa provincia e per questa regione. L'onorevole Ragusa ha lanciato una petizione. La raccolta firme sarà portata avanti per dire no alla chiusura dell'ospedale Busacca e sarà inviata al ministro Lorenzin. Sono già state raccolte centinaia di firme e dopo l'assemblea proseguirà la campagna con un bacchetto simbolico che si terrà sabato in piazza Busacca e poi via via in altri punti di snodo.